Buonasera, benvenuti, io sono Roberto Martorelli del Museo Civico del Risorgimento e tocca a me questa sera presentarvi una delle ormai più di 200 pillole della storia a porte chiuse. Vi ricordo che queste pillole sono cominciate ormai esattamente un anno fa e si tengono tutti i lunedì e tutti i martedì alle ore 20 o sulla nostra pagina Facebook del Museo Civico del Risorgimento o anche nella pagina dell'Associazione Amici della Certosa. Vi ricordo che oltre a queste pilloline adesso ci sono anche le conferenze online quindi se consultate il calendario degli appuntamenti del nostro museo, il Museo Civico del Risorgimento, troverete che sia questo mercoledì che il prossimo sabato ci sono due interessantissime conferenze vere e proprie quindi con la possibilità di vedere le immagini e di interagire dedicate all'età napoleonica e alla moda nell'Ottocento. Per voi questa sera ho scelto di descrivervi sinteticamente perché la storia richiederebbe ben più che una pillolina di uno dei monumenti più importanti che si trovano all'interno del cimitero monumentale della Certosa che è il monumento Malvezzi-Angelelli. È una tomba dedicata a Massimiliano Malvezzi-Angelelli e si trova esattamente al centro della Sala del Colombario, uno degli spazi ottocenteschi più belli di tutta la Certosa e mi viene da dire in generale uno degli spazi più belli di tutta Bologna. Vi faccio giusto vedere questa veduta, è una bellissima foto ottocentesca quindi dove è molto più pulita rispetto ai tanti oggetti, vasetti, vasettini, fiorellini che potete trovare oggi e al centro proprio troneggia il grandioso monumento in marmo dedicato a Massimiliano Malvezzi-Angelelli. Parlo proprio di grandioso perché solo il gruppo che vedete sopra è alto circa 2,20 m. Il basamento è alto più o meno altrettanto e quindi parliamo di un monumento che arriva a quasi 5 m. È un monumento eccezionale per tanti motivi, spero che dopo spiegandovelo riuscirete a capirlo meglio, ma sintetizzando molto per poi approfondire, al centro della Sala del Colombario della Certosa c'è uno dei più importanti monumenti d'età neoclassica d'Italia e quasi quasi, vien da dire, anche d'Europa. La storia del monumento è molto complicata. Innanzitutto il basamento è di un momento storico, cioè siamo degli anni 40-50 dell'Ottocento e invece il monumento sopra è precedente e non è nato per la tomba di Massimiliano Malvezzi-Angelelli. Cosa si incrocia in questo monumento? Si incrocia l'età napoleonica, si incrocia tutta un po' l'epopea della restaurazione dopo la caduta dell'impero di Napoleone Bonaparte, si intreccia l'arte, lo sviluppo dell'arte, soprattutto della scultura, dal pieno neoclassicismo di inizio ottocento al naturalismo della metà del secolo. In più la parte superiore è realizzata da forse il più grande scultore dopo Antonio Canova e cioè da Lorenzo Bartolini, che è stato uno dei tanti allievi dello scultore di Possagno, di Canova, ma sicuramente è stato l'artista che ha portato avanti lo stile del maestro e l'ha portato però allo sviluppo successivo, cioè proprio quello che noi oggi definiamo il naturalismo. Partiamo per gradi perché la storia è abbastanza complessa e partiamo proprio dalla persona a cui è dedicato questo monumento che si trova incertosa. Massimiliano Malvezzi-Angelelli appartiene, il cognome già lo fa capire, a una delle grandissime famiglie senatorie della della città, quindi che hanno fatto la storia secolare di Bologna e nasce nel 1775. Morirà nel 1853 e tutta la sua vita sostanzialmente è dedicata allo studio e all'amore per le lettere e per la musica. Per quanto il padre fosse molto attivo dal punto di vista politico sia in epoca napoleonica sia in età di primissimo inizio, scusate, alla fine della periodo del Settecento e nell'età napoleonica, tanto invece il buon Massimiliano Malvezzi cercò di tenersene a distanza da tutti la politica, anche se ebbe poi qualche piccolo ruolo all'interno del governo bolognese durante l'Ottocento. Sostanzialmente però lui avrà un'istruzione all'inizio anche in maniera privata, come avveniva spesso per le grandi famiglie nobiliari bolognesi, poi seguirà il padre nelle sue avventure politiche a Roma e quindi lì comincia la sua passione per gli studi della letteratura antica. Quando torna poi a Bologna, dopo breve verrà chiamato a sostituire la cattedra del cardinale Mezzofanti. Mezzofanti è considerato ancora oggi uno dei più grandi cultori delle lingue, lui riusciva a parlare e a riconoscere in almeno 60 lingue, però ovviamente era il cardinale che verrà poi chiamato al governo della città, quindi dovrà abbandonare la cattedra e verrà proprio sostituito da Massimiliano Malvezzi Angelelli, che in breve diventerà e verrà riconosciuto come uno dei migliori traduttori in Europa dei testi greci e soprattutto latini. Insegnerà a lungo nella nostra Università di Bologna, sarà molto amato dai suoi allievi, formerà bologna, tutta una serie di personaggi di primo piano, basti citare giusto due nomi, Marco Minghetti, quindi il più importante politico della storia del risorgimento bolognese, una figura di primo piano del percorso dell'unificazione italiana e poi anche il buon Luigi Frati, che sarà poi direttore della biblioteca dell'archiginnasio e che è stato uno dei più grandi ricercatori bibliografici della storia italiana e ancora oggi chi va all'archiginnasio, se vuol trovare dei libri, deve consultare il buon fondo Luigi Frati. Era anche amante della musica, era in stretta amicizia con Gioacchino Rossini e si scambiavano spesso notizie e partiture, si dilettava anche di suonare e di scrivere alcune composizioni musicali. Quindi un personaggio estremamente variegato appartenente a una grandissima famiglia bolognese e quindi ovviamente il monumento che si deve costruire alla sua morte nel 1853 non può essere il classico monumentino. Anzi, viene scelto la posizione più importante che in quel momento c'è all'interno della Certosa di Bologna, cioè al centro della Sala del Colombario che è appunto, come ho già accennato, uno dei più bei spazi coperti dell'Ottocento a Bologna, ma direi in generale anche della città. Fin qui la storia è abbastanza piana, poi invece in realtà comincia la storia complicata. Di cosa siamo sicuri? Siamo sicuri che il basamento su cui è collocato il gruppo viene eseguito da Massimiliano Putti. Il basamento ha una forma ottagonale, sul fronte entrando nella sala c'è il ritratto di Massimiliano Angelelli, negli altri lati ci sono delle decorazioni che alludono coi simboli alle qualità intellettuali del defunto e ovviamente ci sono anche le epigrafi. Il basamento è sormontato da una bellissima decorazione a festoni e a mascheroni che sono eseguiti in maniera assolutamente strepitosa da Massimiliano Putti che era figlio d'arte perché anche suo padre era scultore, era Giovanni. Qui siamo appunto nei primi anni cinquanta quindi siamo nella primissima attività di Massimiliano Putti che però ovviamente avendo sia frequentato l'Accademia di Belle Arti sia la bottega del papà può già dimostrare già da giovane di essere già maturo e soprattutto ben capace dal punto di vista tecnico. La parte superiore, come vi ho detto, non nasce per il monumento dedicato ad Angelelli. Viene acquistato dagli Angelelli per essere collocato lì e verrà acquistato, come dicono le cronache, per diecimila scudi e una pariglia di cavalli. Pariglia vuol dire una quantità di cavalli. Diecimila scudi è una cifra uno sproposito. Vi ricordo che lo scudo era la moneta grande d'argento dello Stato Pontificio che equivaleva allo scudo d'oro. Quindi era un monumento eseguito da uno scultore importantissimo perché se è vero che non era stato eseguito per il monumento Angelelli era però un'opera in marmo di Lorenzo Bartolini. Lo scultore era nativo di Prato, lavorerà sostanzialmente tra Prato e Firenze ed è stato veramente il grande protagonista della scultura europea dopo la morte di Antonio Canova. Dopo Canova c'è Lorenzo Bartolini, c'è poco da fare. La nostra fortuna è che quasi tutti i gessi, i modelli, gli studi, i bozzetti che lui aveva conservato nello studio sono arrivati all'Accademia di Firenze. Quindi quando si potrà tornerete a farvi una passeggiata a Firenze, oltre a vedere in Accademia il Davide Michelangelo, ricordatevi che c'è una sezione gigantesca con tutti i gessi di Lorenzo Bartolini. E tra i gessi c'è anche il modello per quello che è oggi il monumento Malvezzi Angelelli. Cosa rappresenta oggi il monumento? È una figura femminile seduta dalle fattezze classiche con al fianco un fanciullo. Questo è proprio il modello in gesso che si trova all'Accademia di Firenze che è alto due metri e ventitré. oggi con le allegro tutta la simbologia che è stata posta sul monumento Angelelli rappresenta Pallade o il genio della gloria. Quindi che cosa vuol dire? Pallade Atena, la protettrice degli intellettuali e il genio della gloria. Quindi il genietto a simboleggiare il ricordo imperituro di Angelelli grazie alle sue capacità intellettuali. In realtà il monumento originario non era Pallade o il genio della gloria ma era il ritratto di Elisa Bonaparte Baciocchi come la magnanimità. La prima idea e quindi la costruzione del modello che fece Lorenzo Bartolini è di inizio ottocento. Facciamo un passo indietro. Lorenzo Bartolini diventerà famoso non solo perché era allievo di Canova della scuola canoviana ma soprattutto perché avrà reso famoso grazie proprio a Elisa Bonaparte. Lei è una delle tante sorelle di Napoleone e lo sapete l'imperatore piazzerà su vari troni tutti i parenti. Ad Elisa toccherà all'inizio il governo di Lucca e Piombino e poi diventerà anche granduchessa di Toscana. Un po' sul modello sia di Bonaparte ma anche di tutti gli altri Napoleoni di come Gioacchino Murà. Il governo sotto Elisa Bonaparte sarà pieno di riforme e tra queste riforme c'era anche cercare di incentivare l'industria attraverso le arti. Verrà riconosciuto in Lorenzo Bartolini la figura che poteva svolgere questo ruolo e quindi Lorenzo Bartolini diventerà l'artista di corte di Elisa Bonaparte e anche colui che deve fare scolpire ovviamente con la bottega tutte le immagini ufficiali della granduchessa da mettere negli uffici e da donare in giro per l'Europa nelle occasioni ai parenti o anche per i motivi diplomatici. Quindi si arriva alla produzione seriale di tanti ritratti di Elisa e forse in quel momento nasce proprio la prima idea, il modello in gesso di due metri per questo monumento che forse doveva finire in una piazza a Carrara. Per motivi che non conosciamo il monumento verrà poi un po' abbandonato e tutta la storia di questo marmo viene fuori poi con la morte di Elisa Bonaparte. Lei fuggirà ovviamente dalla Toscana con la caduta di Napoleone nel 1815, morirà poco dopo e il marito Felice Baciocchi che nel frattempo si era trasferito a Bologna decide che per la propria moglie bisogna farne un monumento degno. Baciocchi acquista l'uso di una delle cappelle della Basilica di San Petronio e decide che in questa cappella bisogna fare il nuovo monumento quello dedicato alla moglie a Elisa Bonaparte e nella parete di fronte invece portare da Lucca il monumento gigantesco che era stato eseguito per i figli che erano morti giovani, erano morti bambini. Cosa succede? Succede ovviamente che Felice Baciocchi si rivolge a Lorenzo Bartolini, l'artista prediletto, lo scultore prediletto dalla moglie, il quale ovviamente anche per omaggio alla donna che l'aveva reso famoso in tutto il mondo, si presterà volentieri all'esecuzione di quest'opera. Le prime idee erano un monumento completamente nuovo, con più sculture, ma questa idea nuova non piacque a Felice Baciocchi e quindi venne ripescato il modello di qualche anno prima che doveva essere un monumento pubblico da mettere in piazza. È una statua di due metri e venti che doveva trovare collocazione entro una nicchia e una grande struttura monumentale nella cappella in San Petronio. Immaginate già l'esecuzione di un'opera, un grande gruppo in marmo di due metri, non può richiedere pochi mesi di lavoro. In più Lorenzo Bartolini era assolutamente operato da commissioni proveniente veramente da tutto il pianeta e quindi l'opera si protrae ovviamente lungo gli anni. Poi purtroppo, non si poteva vedere dal blocco di marmo a distanza di tanti centimetri, quando si arriva all'altezza del volto di Elisa Bonaparte compare una vena grigia proprio sulla guancia. Lì comincia tutta la diatriba, i Baciocchi gniccano perché qualche difetto compare sempre in grandissimi blocchi di marmo ma proprio una vena sul volto sembra quasi uno sfregio. Bartolini si presterà, ti dirà non c'è problema, posso farne un'altra, basta che ovviamente mi ha acquistato il blocco di marmo. Baciocchi disse assolutamente no, il blocco di marmo te lo compri tu perché è un omaggio che tu devi fare alla tua musa sostanzialmente, ma ovviamente Bartolini avrà detto che un blocco di marmo gigantesco costava cifre veramente ragguardevolissime. Questo battibecco va avanti per un po' di anni ma termina poi con la morte di Felice Baciocchi. Morendo Felice Baciocchi perde del senso del monumento eseguito solo a Elisa Bonaparte. Quindi il monumento alla fine viene rifiutato dai figli di Elisa e di Felice con dispiacere sommo di Lorenzo Bartolini e la famiglia se lo metterà a palazzo per un po' in deposito. Passano gli anni, qualche anno, nel frattempo muore il marchese Malvezze Angelelli. Qui non sappiamo bene quali siano stati i passaggi per arrivare insomma alla scelta. Fatto sta che i Malvezze Angelelli acquistano il gruppo in marmo che si trovava a Bologna nel palazzo di famiglia dei Baciocchi e viene collocato con alcune modifiche soprattutto con l'aggiunta della civetta da parte di Massimiliano Futti nella sala del colombario. Ma la storia ovviamente non finisce qui. Perché cosa ci facciamo in San Petronio dove ci doveva essere il monumento che poi finisce in Certosa? Bene, i Baciocchi decidono di chiamare il più importante scultore che in quel momento operava a Bologna, che era questo signore qua, che era Cincinnato Baruzzi. Anche lui è ovviamente uno dei grandi eredi di Antonio Canova, ma mentre possiamo dire che Lorenzo Bartolini è l'erede spirituale dello scultore di Possagno, Baruzzi è stato l'erede fisico, perché alla morte di Canova gli eredi si rivolgeranno a Baruzzi per la gestione dello studio a Roma di Antonio Canova e per completare tutte le commissioni che presero a Baruzzi e alla bottega ben dieci anni. Quindi ovviamente si rivolgono i Baciocchi al migliore scultore bolognese, ma anche in quel momento, e cioè negli anni 40-50 dell'Ottocento uno dei grandi scultori italiani. Cosa succede? Succede che come forma del monumento più o meno viene mantenuta quella che era stata scelta per il monumento originario con di Lorenzo Bartolini e per un semplice motivo. Ora cerco di farvi vedere più o meno il monumento attuale, perché la parte della cimasa, cioè la parte in alto con lo stemma, Baciocchi, Bonaparte e le due figure ai lati erano già state eseguite anche quelle da Lorenzo Bartolini. Quindi era assolutamente uno spreco, assolutamente un non senso non utilizzarle per il monumento. Quindi ovviamente se abbiamo già una parte alta fatta così va da sé che più o meno anche la parte inferiore doveva più o meno rispettare l'idea iniziale. Al centro però non viene ovviamente collocato il monumento Elisa Bonaparte, ma forse un capolavoro assoluto di Cincinato Baruzzi che è questo meraviglioso gruppo che rappresenta l'unione eterna tra marito e moglie e al centro questo bellissimo genio funebre Trattino Angelo che li abbraccia e ovviamente li accompagnerà nell'aldilà. Quindi cosa ci troviamo? Ci troviamo che a Bologna, che pochi lo sanno, abbiamo ben due capolavori di Lorenzo Bartolini, quindi la cimasa in San Petronio e soprattutto il grande gruppo che si trova alla Certosa di Bologna. E grazie al rifiuto di quest'opera in San Petronio c'è un sommo capolavoro dello scultore Cincinato Baruzzi. I bolognesi poco sanno dell'esistenza di questo monumento che si trova nella Sala del Colombario e dell'importanza che esso ha e facciamo dei paragoni. Monumenti di età napoleonica di dimensioni, di quelle dimensioni, ce ne sono veramente pochi in giro per l'Europa. Veramente, veramente pochi. Quindi è veramente un'opera emblematica dell'età napoleonica, non solo in Italia, ma ovviamente in Europa. E giusto per capire un po' chi fosse Lorenzo Bartolini, prendo le parole di Giuseppe Rivani, che poco dopo la morte dello scultore nel 1858 ne tratteggia un po' il carattere. Molte volte i testi ottocenteschi sono, al nostro modo di intendere, piuttosto noiosi, prolissi, lunghi. Quindi questo, anche se è un po' lunghettino, però ci tengo a leggervelo, in poche righe condensa tutto. Cita pochissime opere, ma ci fa capire l'importanza dello scultore. Quindi, ricordando l'artista che lui conosceva molto bene, dirà che di diritto ebbe il primo posto nell'estimazione dei suoi condiscepoli e colleghi, che la sua fama di subito grandeggiò in Francia. E il destino volle che a lui toccasse di eseguire il basso rilievo, rappresentante la battaglia ad Austerlitz. Le opere eseguite in Francia ed il basso rilievo della colonna Vendon furono di tale efficacia che la principessa Elisa Bonaparte procurò a Bartolini la nomina di professore di scultura nell'Accademia di Carrara. I lavori che portò in Francia e che espose al pubblico destarono nella moltitudine un interesse, una curiosità, un rumore insolito. Avvenne poi qualche anno dopo che a queste contese dell'arte succedessero le conflagrazioni politiche, onde il Bartolini, abborrito già come scultore dai colleghi, fosse perseguitato dai nemici del nome napoleonico di cui egli era caldissimo fautore. Il popolaccio di Carrara, aizzato da tali nemici, invase la sua casa e il suo studio e gli fracassò marmi e modelli. Ne si fermò a questo, ma frugò per ogni lato della casa per trovarlo ed ucciderlo. Se non che fortuna volle che egli potesse fuggire dalle finestre ed attraverso le campagne mettersi in salvo per poi fuggire a Firenze, dove infatti venne a stabilirsi. Fu allora che l'ambasciatore di Inghilterra gli fece eseguire il ritratto di Lord Byron e altre opere. E i viaggiatori russi non vollero operare meno intelligenti degli inglesi, onde Bartolini lavorò busti e statue che viaggiarono a Pietroburgo. Le committenze, oltre a crescere di numero, crebbero anche di importanza e potesse lanciarsi nel concepire grandiose composizioni e nel rendere in marmo gli affetti umani. Si pose a capo di una nuova scuola di sculture in Italia, di quelle dove il pensatore va di pari passo con il produttore esatto della natura. Ed è soprattutto questo ultimo capoverso che ci sintetizza tutta la vita artistica di Lorenzo Bartolini. Un artista che, trasferendo lo studio a Firenze, accederà a tutto il turismo internazionale, soprattutto inglese e russo, che non mancarono di commissionargli le opere più diverse delle più grandi dimensioni. Per cui se fate una banalissima ricerca su qualsiasi motore di ricerca, scrivete Lorenzo Bartolini, trovate capolavori sparsi veramente per tutto il pianeta. E poi ci dice che fu a capo di una scuola che dove al pensiero si andava di pari passo con la riproduzione della natura. E lui è l'artista che proprio porta avanti, abbiamo detto, la fiaccola di Antonio Canova, ma lentamente ci si allontana dal classicismo, quindi dal riproporre la cultura greca e romana, arricchendola sempre più degli elementi naturali, della rappresentazione del corpo per come quello è. E non è un caso che lui verrà odiato dalla cultura accademica, come viene detto in questo testo, perché favorirà tutta una serie di scultori che saranno poi alcuni dei capostipiti del verismo borghese del periodo dell'Unità d'Italia. Quindi è famosissimo l'appoggio che lui diede allo scultore Giovanni Dupré, che era stato accusato di semplicemente fare dei calchi dal vero per eseguire le sue statue, perché non erano idealizzate, e lui proprio lo difese a spada tratta e si mise ovviamente contro tutto il mondo accademico dell'epoca. Spero che tutta questa serie di notizie vi abbiano incuriosito e vi abbiano fatto capire anche l'importanza di questo monumento che si trova alla Certosa. Vi ricordo che facendo anche una semplicissima ricerca su un motore, mettendo il monumento Malvezza e Angelelli, troverete la nostra pagina dedicata a quest'opera nel sito Storia e Memoria di Bologna. Direi che la mia pillolina termina qui. Vi ricordo che domani la parola sarà al nostro caro amico Pelagalli, che come sempre dedicherà il suo tempo, le interessantissime approfondimenti sulla storia delle strade e dei nomi dell'urbanistica bolognese tra l'età napoleonica e l'unità d'Italia. Grazie per l'attenzione, alla prossima e buona serata.